Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Teletina, assalto alla rocca del drago, livellato, ho fatto un punto, due anzi, e li vado a mettere, ho fatto anche dei gettoni, ma che velocità di cose, di secuzioni, ritardano in culo la velocità di ricarica e scudo, penso che sia la cosa migliore per il momento, e poi volevo andare a mettere appunto dei talenti, se li trovo qua. Mi interessava anche questo che aumenta la velocità di ricarica e la velocità di cambio armi, che non serve male, però insomma, lasciamo perdere il cecchino, velocità di proiettili, aumenta la velocità di proiettili e i danni da colpo critico di tutte le armi da fuoco, e questa è una cosa molto buona, è difficile farne a meno, vediamo poi, usando il birino ottico ottieni un bonus per il danno di colpo critico, sono tutte cose interessanti. Trovare, sì, adesso mettiamo questa, no questa, speriamo che non ci sia troppa gente immune, ok, decisamente molto meglio, vediamo, eh sì, ci mancava il livello, una cosa così, sì sì sì, adesso facciamo una cosa da bordo, ho perso l'arma di nuovo, ma porca di quella puttana, siete dei figli di troia a farmi cadere l'arma ogni volta, eh? è proprio testa di cazzo, bisogna dirvelo, eh, non si fa così però, eh, possiamo dire perderla, ma questa è una stronzata che non la digerisco proprio io, non la digerisco proprio, ok. aspetta un attimo, bisogna, la persa di nuovo, oh, quella storia, cioè ma non è possibile, non è assolutamente possibile, ok, io vorrei sapere perché la perdo, non mi ha detto niente al gioco, quindi non so, vabbè, sia. tira l'arma, lo tiro, l'antico la spada, ok, oh, la miserica, c'è dove sti morì, ci sai, io, il personale, eh, insomma, eh, resiste tutto, resiste, ok, eh, adesso devo caricare, ovviamente. se lo faccio così, eh, non lo so perché sono, a un certo punto, quello se lo chiede, oh, salve, lei è molto bello, sa, soprattutto quando le prende, ok. Scusi, dovevamo morire in attico, se l'ha detto in personale, no, aspetti in attico, va che è meglio. Ok, adesso tocca a me. Eh, poca vacca. C'è il mio che cosa ci mette a ricaricare. Perfetto, è morto. Adesso, carica, ce la fa Oh, alleluia Ce la faccio, ce la faccio, promesso Insomma, sì Eccoci, eccoci Dove si è finito? Oh, questa mi è piaccionata Mi è piaccionata tanto Prendiamo un po' di roba, va che è meglio La peppa E dopo ci guardo, eh Eh, ma io ci marito, ho rotto un po' i maroni, voi, lo sapete Eccoci qua, così siamo a posto Adesso prendo tutto Speriamo bene, carichiamo Vedete che adesso va molto, molto meglio Eh, non andiamo di livello Qua ho l'arma, magari Eccoci qua, salve Ok E niente, non riesco a mirare Mi stanno prendendo, quindi Mi si muove la visualo E ovviamente per questo ci mette così poco a caricare Che è un piacere sparare Sperate un attimo, va Ok No, questa, quest'altra, grazie Ma vaffanculo, testa di cazzo Scivolata il cazzo Scivolata Ma vada a te che figlio di troia E niente Ci si gioca Quindi è schifo, eh E niente, scivolata di nuovo, eh Che dubbio Ok Andiamo Vai Ok Vai, vai, vai E vabbè È andata così Ok Altri Continuati Ovviamente dovevo caricare Eh Sono parecchio tosti, eh Non c'è niente che dire, eh Cioè, guarda che figlio di tra Mi ha rubato la kit Lo stronzo Oh, porca vacca E niente Ok Fammi togliere sta spada di merda Ok Non c'è tutto il cazzo che muoiono L'ho provato a togliere Però non ci sono riuscito E niente Ce la facciamo, ce la facciamo Ce la facciamo morire E niente, ce l'ho provato Potete abiesimarmi Ok E se no, anche senza munizione Vabbè, tanto questa la prendo sempre Ok Andiamo un po' avanti Te sei un bello stronzo Sai, non dico io Se non trovate nessuno Ovviamente doveva caricare Perché Il testo è di cazzo Se no non è contento Ok Ma guarda te E niente Ecco Doveva caricare Ovviamente quello stronzo Il testo è di cazzo Mi ha fregato alla kill E mi sembra ovvio, no? Eh, mi sembra giusto Vabbè, è andata così Adesso io riprendo subito Vado immediatamente Da quel testo di cazzo E l'uccido Forca vacca Il cazzo di casino Non si capisce una mazza Eh, vabbè Cioè, ho finito tutte le munizioni Incredibile Raccogli le tartine Ma io le tartine Non riesco a farle Adesso la quest Devo fare l'altra Che fatemi vedere Che cazzo di quest è Perché non ci capisco una mazza Come al solito Non si capisce un cazzo Questo gioco Sconfiggi il re fantasma Uno ne ho sconfitto Cioè Non so se avete capito Sono buco Però non muore mai Lui è mortale E' morto Accidenti Non riesco a prendergli la spada Ok Una la pesa Dai, crono E' niente Purtroppo ci metto 30 anni Cioè Sta ancora caricando E' incredibile E' incredibile Ok Andiamo, andiamo, andiamo Vediamo la vita Andiamo nella vita Ok Cos'è Qualsiasi cosa forse Non lo so Amato il Ok Perfetto Vai, carica Felicissimo, eh Una ricarica Eh, guarda che figlio di Troia Cioè Non si può Una ricarica così di berda Dai E' illegale Fare una roba del genere Perfetto Cioè Li tolgo, eh Ma dopo Quando ritorno E' ancora vivo E' niente E io non desisto Ce la farò Prima o poi Insomma Eh, non posso mica Sempre morire Vediamo un po' Sto reputano Qui come si Uccide E muorici Oh Questa è andata Ok, ci deve essere la vita, eh Adesso Per restare più vicino Eh, va a far culo, va No, guarda E' niente Vita, vita, vita Va a far culo, va Scarica Lo ucciderò, eh Questo Questo Animale E' niente Cioè Voi ditemi Come uno scudo Può Fare A resistere A una caronata del genere E' niente Ecco Ancora carica Porca vacca Lo vuori E' niente E' vivo, eh C'è niente da fare A uno scudo Che resiste Alle battucate Proprio Porca vacca E' che cazzo Però, eh Certo tu Tu lo se lo chiedi anche Niente Ho saltato Ma non ho sentito un cazzo Va bene Ok Ronald Dove sei? Oh porca Troia Ok Ok Mi ha fatto un critico Che l'ha sentito, eh Vai Ronald Mi faccio la carta E' niente Però Semberebbe Che li abbiamo fatti Fuori tutti Dai, dai Ho detto che Non mi arredevo io Ma che troia Ok Usiamo questo Che vi devo dire Ah E non è mica finita, eh Dovemmo uccidere Questa di cazzo qua Dove cazzo ti Oh Io se l'ho dato Ok Adesso dopo ci guardo Adesso datemi un secondico Da riuscire a prendere un po' di cose Poi guardiamo cosa abbiamo preso E siamo un po' più belli e felici Cos'è questo? La vita Il cantatore Niente Che ci possa Servire Però Io sono soddisfatto Alla fine Dai e dai Insomma Ovviamente Vabbè Ok Malacchie Scemo sì Però Solo fino a 100 punti Uno se lo dice E' quello Spesso lo stesso Ronald Fa qualcosa Torna a casa Come lessi Vai E' un aspettinatico Ma Oh che piazza pulita Che mi ha fatto Qui è caricato Bisogna andare Adesso Ci manca l'altro Ok L'ho preso Viene Vieni qua Tac Cevolo è mancato Ok Ovviamente Devo caricare Ovviamente Ce la tiro adesso Oh le E qui siamo a posto Bene dai Sono contento Alla fine Dai e dai Ce l'abbiamo fatta Questo è un fucile Da nevrino Questo qui Invece E' un fucile Che cazzo Che rompi Ma fanculo Ma fammi vedere Le cose E no Ci siamo proprio Ok Vi carico Il bot Gli resta dando Eh Come gli restia dando Carica Ce la facciamo Eh Promesso che ce la facciamo Adesso è rimasto solo lui Dai ce la facciamo Bene Andate a finire Ok Guarda che Eh Vai vai Ronald Eh Rodland Carica Ho caricato Mezz'ora prima Per riuscire A prenderlo Non ce l'ho fatto Lo stesso Ok Fucile da nevrino Vediamo un po' Quanto fa Allora Meno preciso Più cadenza Di fuoco Ma di poco Meno danno Poverità di fuoco Incediare Ecco Scusate Perché almeno Questo fa Troppo Questo Zoom A raffica Io sto ancora Guardando E qui c'è ancora Qualcuno Che mi spara E' incredibile Allora Vediamo un po' Perfetto Vai Vai Perfetto Oh Abbiamo 65 Che potenziamenti Da panico Faccio Dopo ci Dopo ci andiamo Vedete Con un po' Di calma Ce l'abbiamo fatta Cioè Questa è meglio Di quello che ho Di tanto Però una cadenza di fuoco Veramente di merda Cioè Quattro vuol dire Spara un colpo Poi stannutisce Si e soffia il naso E si asciuga il moccio E poi carica Cioè E' un po' Tanto Quindi lo lascerei perdere Anche perché fa poco E quindi Andiamo qua Perfetto Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Non ci credo Ferteggiamo Insomma Sì E che cavolo Guardate I lavori Insomma Sì Vediamo Cosa ci dice Ci dà 10 di eridio Più Oh Come rappresentante Della guardia imperiale Della regina Io Roland Ti nomino Cavaliere di giustizia E pasticcini Alzati Ma Escrivete Se state cercando La regina E' prigioniera Dello stregone Dovrete attraversare Le miniere dei nani Per raggiungere La sua torre Eh Io ho capito Una cosa Che insomma Non è la merda Ho un po' Era un Risultazione Insomma Qualcosa Io Proverei questo Dunque Vediamo un po' Fatemi vedere Se ho qualcosa Di meglio Ma Proviamo Questo Perché io voglio Vedere una cosa Dunque Questo Vabbè Fucile da nevrino E' a posto Questo Punizione La pompa Le punizioni Questa qui E' quello Da curvo A virgola E questo E' il zitto Ok Abbiamo Ogni Arma Un tipologia Di armi Di munizioni Diverse Così non Non dovremmo Avere E' Cessi Problemi Benissimo Guardiamo Le Appunto Queste Adesso C'era la 12 Io farei la 5 Oddio Si è rodato Posso fare la 5 E non ci credo Festeggiamo Insomma Si E mi si è aperto Adesso Io voglio Di dare un attimo A vedere qua Scusatemi Non c'è un cazzo Perfetto Volevo Un attimo Sì Quello Vediamo qua Non c'è niente Non c'è niente E posso andare a fare La Questa Finalmente Opla 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 E vai Fammi fare Questa Così Me l'abbiamo fatta Tutte E non abbiamo Più problemi Ok Vai Vai Vediamo Cosa c'è Uh E' un mitra Molto buono Che fa Così Però Un fucile da nevrino Che fa Contamina Provoca a dare Un elementare bonus Vediamo un po' Mi interesserebbe Tanto Probabilità Contaminazione Sato Non mi piace Quasi sempre Contamina Problema è che Se non ricordo male Contaminazione Prima si contamina Poi con un'altra arma Qualcos'altro Compensa E fa molti più danni Però non ho tempo Di fare una roba del genere In più la cadenza di fuoco E' così bassa Che può venire Immorbidilo tranquillamente E quindi insomma Si Va bene Non c'è da vendere Che io sarei leggermente pieno Porca vacca Mi sono caccato in mano Ma porca miseria Non si fa così Eh Oh cavoli Sto mimiche Cioè i mimiche Ci sono spesso Io non mi ricordavo Oh porca vacca Eh che cavolo Andiamo un po' Oh plà Che bella cosa Grazie signor mimiche Lei mi è stato di molto aiuto Sa E' stato un piacere Insomma Vederla Andiamo va Che è meglio Farla questa Chi cazzo è questo Salve Lei è ridotto un po' l'osso Dovrebbe fare economia Insomma Nel senso Ok Perfettico Optico E Cosa prendiamo Beh qualcosina abbiamo preso Un po' di soldi Perché mi ho perso i tanti morendi Scusate Mi ci vogliono Vediamo un pochino Perfettico Da che Mi tengo incareggiato Mi ero preso male Perché non riuscivo più A giocare Porca miseria Eccoci qua Vai vai C'ho tante munizioni Usali no C'è anche caricatori Crepienti Sono buoni Ok Sì sì è facile Ma che cazzo Io devo vedere se E' L'arma in questione Che perde Perché solo con questa Mi succede Ma che cazzo Io vorrei guardarci Scusate Fatemi vedere Perché se è così La tolgo e basta Ehm Sivolosa e bagnata Ma vaffanculo Ma che cazzo vuol dire Che cazzo Di arma Ma è una rete Unculata E' una supposta Tiporoncina Insomma Come si fa A mettere un'arma Così di merda Adosso Ma porca vacca Vediamo Percaità eh Insomma Proviamo l'altra Va che è meglio Questa Quell'altra No quell'altra Ecco qui Vedere come com'è Beh sembra Oh Sembra putenza Una puttentina All'altra Per cui sembra sì Eccoci qua Date fuoco Che è meglio Beh non è neanche Tanto dura Da caricare E almeno Non sta a tre colpi Alla volta Insomma Se dipende Che mi siano I soldi Ok Oh Quanti Vendi Dio Ok Perfetto Io prendo eh Non c'è mai Senza prendere la mira Un casino eh Di cui scivite Vediamo qua Che bella roba Salve lei Oh Così mi piace Questa la prenderò mai Insomma Si ricarico Ricarico Non preoccupate Oh Aspettate un attico Va che È meglio Ok Basilisco Basilisco Eccolo qua Ma non è neanche Difficilissimo Di caricare Ok Ok Perfetto Ma io sono più che contento Voi cosa dite Finalmente è un'arma Che non mi fa Dannare Eccoci qua Pugiamo E siamo a posto Perfettico Prendiamo anche qua Un po' che ci salutiamo Siamo tutti a posto Vedi adesso è contento Una volta tanto Che ci danno Qualcos' di buono Perfetto Perfetto Arriva arriva Signori Non si Non si disturbi Arrivavo io Si scomodi E' un po' che a vacca E' certo che Prendere il fuoco Ci mette un po' Però quando va a fuoco Facciamo anche stare buono Perfetto Oh Quello è molto bello Sa Ed eccoci qua Adesso vediamo Cosa c'è qui Di buono Perfetto Mi fa piaciore Ottico Vediamo cosa c'è Perfettico Più munizioni ci sono Meglio Perché adesso ci sarà Da divertirsi Allora mettiamo Questa Vediamo come fare Perfetto Io ho visto un drago Oh ma c'è tanta roba Ma porca bacca Perfetto Ci stiamo preparando A una Io li apro tutti Così se mi dovesse capitare Di Dover tornare indietro Li ho già lì Perfetto Vai Perfettico Mamma mia Abbiamo preso Tenente tanto Adesso Sono contento Così era appoggettivo Adesso E adesso c'è questa Perfetto Ottimo Ragazzi Io direi che ci possiamo Anche salutare qua Così almeno Accorgo le ultime cose E niente Andiamo l'asta Appunto E lì che dobbiamo andare Sono contento Zona nuova Cazzi nuove Ma ci sarà da divertirsi Ok Ragazzi Io come al solito Mi invito Facciamo un like e commento Si piace a serie E vi fammi sapere Cosa ne pensate E per il momento Entrate nelle miniere dei nani Sentite i gemiti angosciati Dei prigionieri politici E degli schiavi nani Dello stregone Benvenuto all'emporio curativo Di sedi Mi chiedere di Ragnar Bene Bene Per il momento Vi do il video sotto Si va Ciao ciao Pozioni Grazie a tutti